Una giornata della creatività per chiudere l'anno scolastico, più che altro una giornata dello sport, organizzata lì dopo di Casamaggiore per il Polo Romani. I ragazzi rappresentanti di istituto hanno organizzato oltre a dei tornei di sportivi anche il torneo di briscola e di scacchi. Siamo riusciti ad organizzare il torneo di scacchi grazie alla collaborazione del qui presente Graziano Marchi che ci ha fornito tutto il materiale necessario. Mentre per quanto riguarda l'arbitro abbiamo avuto la collaborazione del nostro docente Massimo Bini. Musica e sport appunto ritrovando la socialità dopo anni difficili anche in tema di ultimo giorno di scuola, celebrando l'attività fisica per tutti e pure per le eccellenze che non sono mancate. Abbiamo partecipato ai campionati studenteschi di atletica leggera, maschile e femminile, siamo arrivati secondi con i maschi e i provinciali e terzi con le femmine e con i maschi siamo andati anche con gli allievi a Brescia, e la fase regionale, siamo arrivati terzi a livello regionale. Abbiamo fatto l'Orientini a livello sempre provinciale, il Bamington abbiamo vinto sia gli allievi che gli allievi a livello provinciale, il pallavolo femminile terzi a livello provinciale, così come il basket 3x3 maschile sempre terzi a livello provinciale. Ripeto, di là dei risultati la cosa bella è che i ragazzi hanno potuto ancora mettersi in gioco, e partecipare e soprattutto divertirsi, che è la cosa importante e imparare, che è quello che a scuola cerchiamo di fare. Come detto, tra le novità, anche gli scacchi che hanno avuto in qualche caso anche una funzione che va oltre la competizione e il gioco. Di un bambino che era autistico gravissimo, dopodiché dopo essersi apprezzato il gioco degli scacchi, naturalmente si è composto di insegnare solo l'ABC, l'ho passato ad un istruttore di scacchi, dopodiché anche questo istruttore l'ho passato a uno psicologo, e adesso è un ragazzo, oltre la maturità, che è un miglior giocatore della provincia di Mantra. Grazie